Accanto a me l'autore del libro, Andrangheta, il comandante Cosimo Spameni, scritto anche dal maresciallo Francesca Parisi. Buonasera. Buonasera. Complimenti per il libro, un libro molto importante, di un certo spessore culturale, in cui si fa un viaggio a ritroso, in chi lo legge, degli accadimenti che sono avvenuti nel passato appunto del fenomeno dell'Andrangheta. Si tratta di una ricerca molto minuziosa. Com'è nata? È stata l'esigenza di cristallizzare un periodo storico appunto perché non fosse dimenticato, trattandosi di un periodo fondamentale, gli anni 80, gli anni 70 a cavallo, gli anni 80, gli anni 90. Lì l'Andrangheta fa un salto di qualità, dai sequesti di persona, dalla mafia agropastorale, passa a quella postindustriale e quindi investe nel narcotraffico. Quindi il contrasto all'Andrangheta è in maniera adeguata alle forme conseguenziali. La genesi e l'evoluzione del fenomeno dell'Andrangheta? La genesi e l'evoluzione? Certo. Noi come momento storico l'Andrangheta nasce qui nella Reggio e provincia, subito dopo l'Unità d'Italia. Abbiamo delle forme di aggregazione, di indrine che allora si chiamavano picciotteria, si chiamava la famiglia Montalbano e subito dopo la Prima Guerra Mondiale abbiamo le prime forme di devianza dell'Andrangheta. C'è l'Andrangheta che a certo punto non rispetta più quelle regole che si era imposta, cioè dissacra le proprie stesse regole. Quindi fa un passo indietro rispetto a quella che chiamavano onorata società, ma fa un passo avanti rispetto a quello che è l'economia. Quindi abbiamo un'Andrangheta che investe in economia, investe in denaro frutto dei delitti, quindi si dissacra per certi versi da sola per un motivo molto semplice, per i soldi, per il denaro. Ci sono tre tipi di Andrangheta. Ne vogliamo parlare? Sì, come dicevo prima, tre sono i tipi di Andrangheta, del mafioso in generale. Il primo è per eredità, il secondo è per bisogno e il terzo è per, io la chiamo ingenuità, ma potrebbe essere per cretinaggine e quant'altro. Quindi il primo per eredità è un po' difficile contrastarlo perché proviene da una tradizione di famiglie mafiose. Lì, cioè tirarlo fuori un ragazzo che ha avuto una famiglia di Andrangheta è difficile, non impossibile. Io conosco persone che si sono salvate, che si sono convertiti alla, come cosiddetta, la legalità, si sono convertiti e hanno lasciato la famiglia. Difficile comunque. Il secondo è per bisogno, perché non c'è lavoro, perché viene escluso dalla società, è una cosa molto strana. Quando un ragazzo qui da noi, almeno parlo in tempi passati, veniva escluso dalla società, si arruolava per così dire nell'onorata società e veniva subito accolto da tutti quanti. Cioè è una cosa veramente brutta, triste, ma è così. E il terzo è quello che invece, quello che chiamiamo noi che se naga, che è l'onnagamento, che però è pericoloso uguale. Che però non si rende conto della pericolosità a cui va incontro lui stesso. E come la sua vita diventerà una continua prigione. Quindi l'appello sarebbe a tutti quanti di riprendersi la libertà e vivere da uomini liberi, anche poveri, ma da uomini liberi. Qual è il significato del libro Andrangheta? Andrangheta è ovviamente, in grecanico, se fosse attaccato in greco, sarebbe Andrangatos, che significa uomo di valore. Quindi sarebbe un rafforzativo di Andrangheta. Mentre il titolo è un'invenzione che l'ha distaccata dalla parola Andrangheta, che appunto questa A sta a significare l'alfa privativa greca, che significa contro. Quindi contro l'Andrangheta. Il libro parte da stazioni per poi arrivare a un concetto fondamentale, ossia quello di evidenziare la memoria di storie note e meno note. Il lavoro, da quant'è che lei lavorava a questo libro? Qui c'è un primo libro, che è un carabinino di lotta all'Andrangheta. Già con questo libro abbiamo fatto, dico abbiamo perché anche con la collega Parisi l'abbiamo scritto, abbiamo già fatto approfondimenti su quel periodo storico. Quindi questa è la continuazione. Qui poi si prendono delle sentenze, si analizzano sentenze, si studiano sentenze e in più ci sono i fatti che al di là delle sentenze si sono verificati. Quindi sono fatti storici. E quindi assemblando tutto e con i protagonisti dell'epoca, che sono il dottore Magri, il dottore Arcati, il dottore Rizza, che hanno scritto su questo libro, il colonnello Calatà, poi i miei maestri che sono Canio Delia e Ciccio Spano, questi sono carabinieri, sono stati i miei maestri. Questo appunto è il panorama e in più l'esigenza di scrivere di quel periodo storico perché in questa fase dei sequestri, in questa Andrangheta che tende a evolversi e a cambiare pelle, ci sono due omicidi eccellenti, che sono quello del brigadier Tripode e del brigadier Marino, che vengono uccisi dall'Andrangheta in maniera pianificata. Cioè a dire, questi ragazzi non si incontrano con la morte, sono due comandanti di stazione, uno di San Luca e uno è stato di Platì e poi di San Ferdinando. Ma non si incontrano con la morte, ma l'Andrangheta pianifica l'omicidio e lo porta a termine. E loro due, ecco l'importanza storica di questo fatto, loro vengono prescelti rispetto a tutti gli altri. Perché? Perché sono i migliori. Quindi la mafia in questo senso volevano colpire ciò che di bello ha il territorio calabrese in quel momento, per dare un avvertimento di non continuare la lotta. Sì, sicuramente all'arma dei carabinieri, che loro qui all'epoca per fermare le indagini bastava sparare sui carabinieri, sui magistrati bastava delegittimarli. Cioè questo era il metodo mafioso. Dunque la loro colpa è quella di essere stati testimoni di verità. Testimoni di verità, bene. Infatti sono dei martiri dell'arma dei carabinieri, quindi considerati gli eroi. Ecco perché. E appunto perché loro, sino alla fine, hanno testimoniato la loro fedeltà al proprio giuramento. Ricordiamo un altro grande eroe, Peppino Impastato. Sì, come no, certo. Peppino Impastato, che anche lui ha fatto la sua parte ed ha pagato per mantenere fede ai suoi ideali. La differenza tra mafia e mafiosità? La mafia è... ambe due sono negative, ovviamente. Sono ambe due negative, anzi aggiungo che la mafia ha il terreno fertile nella mafiosità. Però nella lotta e nel contrasto bisogna comprendere e fare la differenza di questi due fenomeni. Perché la mafiosità è tutto ciò che è atteggiamento, è modo di essere, modo di vivere negativo, ma che si può benissimo intervenire con la cultura. E quindi con tutto ciò che gira attorno alla cultura, con la scuola, con la chiesa. Mentre la mafia, la mafia è una cosa che invece bisogna combattere nelle aule di tribunale. E quella è la lotta all'andrangheta che è devoluta, il contrasto che è devoluto all'arma dei carabinieri, alla polizia d'estate, alla guardia di finanza, alle forze di polizia e alla magistratura. E si differenzia anche dalla criminalità organizzata allora? Certo, la criminalità organizzata è semplice, non ha bisogno della politica. Mentre l'andrangheta, come la mafia, non ha bisogno della politica. Altrimenti non sarebbero, voglio dire, queste organizzazioni con tradizioni e addirittura con culture, se è negativa, ma con cultura. Il messaggio che lei vuole tramandare ai giovani? Il messaggio è questo, è semplice, i giovani hanno tre possibilità. La prima è quella di rimanere e assoggettarsi alla mafia. La seconda è quella di andare via e ricostruirsi una vita altrove, in Italia, in Europa, altrove. La terza è quella di rimanere e di combattere. Preferiamo la terza allora? Io auguro la terza. La ringrazio e alla prossima. Grazie a lei, una buona serata. Grazie.